Buona domenica dal telegiornale dell'Abruzzo, il nodo dei trasporti in apertura. La Filt CGL torna a denunciare l'isolamento ferroviario dell'Abruzzo. L'alta velocità si ferma ad Ancona e la nostra regione continua a perdere tratte e servizi. Mariano D'Amico. Il dato di fatto è che dal 15 dicembre nella regione Marche e nella città di Ancona ci saranno due treni ad alta velocità e due gestori che assicureranno dei servizi assolutamente convenienti per i pendolari di quella regione. Dopo il freccia rossa anche Italo del gestore privato NTV dal 15 dicembre attiverà collegamenti ferroviari veloci fino ad Ancona. La Filt CGL Abruzzo torna a denunciare l'isolamento ferroviario della regione tagliato fuori dall'alta velocità e accusa la politica regionale. Tutto questo avviene purtroppo in un contesto che noi abbiamo definito immobilismo regionale di isolamento ferroviario della nostra regione. I problemi chiaramente non sono limitati soltanto alla questione dei treni ad alta velocità e noi non ne stiamo facendo una questione di campanile. L'annuncio di nuovi investimenti per il potenziamento della dorsale adriatica è rimasto lettera morta, dice ancora la CGL, e la sospensione delle tratte sul Mona Carpinone a Vezzano Roccasecca rischia di trasformarsi in definitiva soppressione. Qui si registra un altro paradosso, ovvero che le regioni limitrofe che dovrebbero essere meno interessate alla soluzione di queste problematiche si stanno attivando politicamente ed istituzionalmente, in modo particolare la regione Lazio sulla Vezzano Roccasecca e la regione Molise sul Mona Carpinone. E l'Abruzzo? L'Abruzzo purtroppo è ferma. Sulla Vezzano Roccasecca la senatrice Stefania Pezzopana ha presentato un'interrogazione parlamentare nella quale denuncia l'isolamento delle zone interne della regione e la mortificazione dell'economia locale.